Profilo destro, profilo sinistro, profilo centro, batto. Allora, dazzù, dimmi quello che ti pare. Davanti a questa potete parla tutti in libertà, eh? Io faccio il pastore, questo ci posso dire. Perfetto, parla da pastorizio. La cosa bella di essere pastore è che con le stelle ci ragionano. I paesani non li italiano mai alle stelle, invece il pastore in campagna, di notte, è diverso. Io dalle volte guardo le stelle e parlo. Ma vero c'è il mondo, non ci credo che c'è il mondo, sono farfanterie. Lo penso pure quando talio un coniglio ammazzato. L'occhio pare sempre vivo e mi talia come quando si talia un quadro. Io una volta l'ho visto un quadro, eppure che mi muovevo di una parte e dall'altra, taliava sempre a me.